Musica Avevano affittato due camere in un albergo vicino alle zone dello spaccio ad Arezzo e le utilizzavano, secondo i carabinieri che li hanno scoperti come base per custodire, tagliare e confezionare droga. Il bilancio dell'operazione di un arresto per spaccio, due denunce e un secondo arresto per violazione della normativa antiterrorismo, in quanto aveva i documenti non regolari. L'indagine è durata una settimana, poi il blitz dei militari del nucleo investigativo del comando provinciale assieme ai cani delle unità cinofile di Firenze. Entrando nelle camere della struttura che ospitava quattro tunisini, carabinieri hanno trovato 15 dosi tra eroina e cocaina. I quattro, sorpresi dai carabinieri, hanno cercato di sbarazzarsi dello stupefacente gettandolo nei lavandini del bagno, addirittura ingoiando gli involucri. Uno dei quattro, un 36enne, è stato arrestato. Gli altri tre sono stati denunciati poiché le sostanze trovate erano in modica quantità. Uno di loro è stato arrestato per l'applicazione della normativa antiterrorismo. Si tratta di un 26enne che aveva i documenti personali non in regola. Assieme all'altro uomo è finito in manette e è stato sottoposto a rito per direttissima lunedì mattina al Tribunale di Arezzo.